Salve Pomo Fielo Pomo Siero e bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo video siamo su MotoGP 23, campionato Moto3, siamo alle Mance e adesso andiamo in gara. Conto a vedere dalla grafica, parto primo, perché le prove libere e le qualifiche sono andate bene, le prove libere e qualifiche pioveva, l'ho fatto sul bagnato, vediamo adesso di gara se piove oppure no, perché il tempo è incerto, non si sa se piove o se parte migliore o più andrà da inizio a piove. Un saluto dalla Francia a tutti gli appassionati delle due ruote, Siamo in collegamento dalle... La regia ci porta sulla griglia di partenza dove i piloti stanno cercando di mantenere la concentrazione prima dell'inizio della gara. Il cielo è coperto e le temperature sono particolarmente basse, infatti molti team hanno montato come morbide sia all'anteriore che al posteriore per permettere ai piloti di portarli in temperatura più facilmente. Ok, assetto guidato, frenata, cicvolamento, posteriore, applica modifiche, entrati in cura, diversi colori, applica modifiche, percorrenze, modifiche, applica modifiche, l'accelerazione, stabilità, sbocchettamente, applica modifiche, perfetto, puoi salvare a sette, le mansi, perfetto, con l'altro acciato e imparte la gara. Gran premio di Francia, tutti in griglia, ma a pochi istanti il semaforo si spegnerà, partirà la sfida di Le Mans, prima dentro, gas a martello e andiamo! Ok, ok! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.